ciao a tutti ragazzi e buona musica oggi vediamo come trasformare un semplice giro d'accordi in un accompagnamento memorabile ho preso come pretesto brano shape of my heart di sting per analizzare le parti di chitarra che fa dominic miller perché secondo me sono veramente interessanti partiamo subito dal giro d'accordi prima di capire cosa succede il punto di partenza di dominic miller è questo lui parte da questo giro armonico allora fa diesis minore fatto a nono tasto mi fatto al settimo tasto che puoi fare anche così e poi anche con le tre dita io lo faccio con un dito solo per tenermi libero le altre mi re quindi sono salitato indietro re maggiore fatto al quinto tasto e re bemolle o do diesis fatto al quarto tasto quindi il giro è questo che se hai un po di dimestichezza conosci un po di musica già sulla chitarra ti dovrebbe ricordare il classico giro di flamenco sono gli stessi le stesse proporzioni gli stessi rapporti che non è solo usato nel flamenco nella musica andalusa è utilizzato anche nel rock un esempio molto famoso è quello di dei dia straits dei morning for nothing quando fatto il giro armonico è lo stesso giro praticamente re do si bemolle la stessa proporzione solo che qua fatto fatto in fa diesis praticamente invece di re minore fatto in fa diesis ok questo punto di partenza partendo dal giro che abbiamo appena visto cioè fa diesis minore mi re do diesis cosa succede ora andiamo a dare non lo suoniamo più come strumming ma lo suoniamo arpeggiato perché vogliamo sentire vogliamo cominciare a sentire le voci che compongono l'accordo non vogliamo che l'accordo sia un blocco unico una roba così per questo va bene nella musica diciamo da spiaggia se vuoi nell'accompagnamento più folk nella musica un po più colta ogni voce importante quindi cosa facciamo cominciamo ad arpeggiare l'accordo di fa diesis minore vedi quando vado ad arpeggiare quindi il mio fa diesis minore il mio mi il mio re e il mio do diesis o re bemolle se vuoi chiamare o re bemolle quindi adesso cosa succede però suona ancora troppo flamenco perché ci sono ancora intanto ci sono ancora troppe voci in che senso andiamo a vedere che gradi stiamo suonando nell'accordo stiamo suonando la tonica la quinta l'ottava e la terza minore in questo caso andiamo a levare le voci che si ripetono in questo caso l'ottava si ripete a me non serve più l'ottava perché io già la suono al basso quindi via l'ottava al mignolo e comincerò a suonare solo tre voci tonica quinta terza minore ok questo primo passaggio poi secondo passaggio tonica quinta terza maggiore tonica quinta terza maggiore tonica quinta terza maggiore ok noi abbiamo ricavato le tre voci quindi fa diesis tonica do diesis quinta la che è la terza minore dobbiamo passare al mi maggiore quindi tonica quinta terza maggiore cosa succede per far rendere il passaggio più fluido e meno brusco si tende si fa in accompagnamento in composizione soprattutto nella musica classica nella musica jazz si prende una nota dell'accordo precedente si porta nell'accordo successivo o meglio che sarebbe meglio dire che si cambiano meno voci possibili quindi cosa faccio il do diesis che ho qua la quinta del fa me lo vado a portare anche nell'accordo successivo il do diesis vedi quindi mi do diesis sol diesis però se ti dici ma io prima suonavo la quinta però se io tenessi la quinta sul mi avrei una dissonanza molto forte ed è difficile creare una melodia su una dissonanza del genere allora cosa fa si omette la quinta per tenere la sesta l'estensione di sesta sull'accordo di mi e siccome questo dito mi è comodo tenerlo fermo la posizione del fa diesis diventerà non più questa scusami questa ma questa quindi il do diesis invece che prenderlo qua lo vado a prendere sulla terza corda cinque tasti indietro quindi ho tonica quinta terza minore sul fa diesis slitto indietro e abbiamo visto che tonica sesta terza maggiore e adesso vado a finire al re con la stessa posizione e qua mi potrei dire certo però io non ho mantenuto voci in comune come mi hai detto prima è vero però un altro modo oltre a quello delle voci in comune è quello di creare delle linee delle melodie che uniscano gli accordi quindi in questo caso tu al canto se ti sei accorto hai questa melodia che è proprio la scala minore armonica questa infatti allora sul fa diesis tu hai questa guarda poi cosa faccio slitto a re sesta vedi questa qui è andata qua e poi ho il prossimo accordo che adesso vediamo siamo arrivati a re sesta perché perché io uso un accordo della stessa specie con la stessa estensione proprio per mantenere un senso di continuità e in più il mio legame me lo crea non più la nota in comune ma la melodia come ti dicevo adesso dal dal re sesta al do diesis che io adesso avrei tonica quinta terza minore voglio tenere una nota in comune dall'accordo precedente in questo caso mi tengo la nota sempre al canto che è il fa diesis me lo tengo e il creo un accordo sospeso di credo do diesis settima su s4 per poi andare dalla sospensione crea tensione per poi tornare alla terza maggiore quindi quarta terza maggiore ok quindi risuonato tutto cosa abbiamo abbiamo allora il nostro fa diesis minore che abbiamo visto che la quinta la prendiamo qua mi sesta ok quindi ho tolto la quinta ho messo la sesta che sembra una cosa automobilistica invece no poi cosa faccio slitto indietro re sesta e adesso vado a qui non metto non metto la quinta perché mi suona solamente tonica settima quarta sospesa e terza adesso cosa facciamo andiamo ad applicare un pattern della mano destra ai nostri accordi i nostri quattro accordi quindi fa diesis minore se l'hai riconosciuto questo è il famoso travis peaking di cui ti parlo anche nell'altro video se non l'hai visto vado a vedere ti metto il link in descrizione conosci travis allora fa diesis minore mi sesta re sesta do diesis sospeso do diesis settimo ok questi sono i nostri quattro accordi adesso non ci interessa fare tutto il pezzo ci interessa che tu capisca il concetto quindi cosa ci portiamo a casa da questa da questa analisi che abbiamo fatto ci portiamo a casa due cose interessanti allora la prima è l'aggiunta delle estensioni quindi se tu ha un accordo aggiungi l'estensione l'accordo immediatamente diventa più interessante lo arricchisce questa è la prima cosa la seconda cosa è quello delle note in comune se tu da un accordo tieni in comune delle note a in quello successivo il passaggio sarà meno brusco proviamo ad applicare gli stessi concetti a un nuovo giro d'accordi per far nostre queste tecniche quindi abbiamo sol maggiore mi minore do e re maggiore ok adesso lo stiamo suonando in strumming quindi il primo step che ti dicevo è arpeggio all'accordo comincia a sentire le voci vedi perché nel strumming io suono a sei c'è un sacco oh tonica terza maggiore quinta tonica cioè c'è un sacco di voci in più che non mi servono a niente però già nell'arpeggio ne elimino alcune quindi diventano quattro voci sol mi minore do e re il secondo step che ti propongo è quello di aggiungere le estensioni quindi dopo il mio arpeggio dopo che ho analizzato che voci sto suonando ok in questo caso ho cominciato ad aggiungere le estensioni non più la sesta come facevamo prima ma la nona in questo caso la nona del sol è il la quindi al mio sol sto aggiungendo una nota di la niente che subito lo rende interessante vedi se voglio posso aggiungere anche un re in più posso cominciare a creare un canto subito sto creando un canto però teniamoci anche questo re qua per adesso secondo accordo secondo il nostro accordo è il mi minore che abbiamo visto quindi mi minore tu lo facevi così andiamo ad aggiungere la nona del mi minore che è il fa diesis quindi parto dal mi vado su di un tono il fa diesis lo aggiungiamo qua potrei aggiungerlo anche qua però lo aggiungo in questo caso la quarta corda e cosa faccio mi tengo in comune la voce del re che avevo prima sul sol prima sul sol io avevo tonica nona e quinta questa quinta qua me la tengo in comune questo re anche sull'accordo successivo vedi comincia a diventare avvolgente l'accordo comincia a diventare interessante mi minore questo è un mi minore nona mi minore settima nona poi cosa facciamo andiamo ad aggiungere per esempio la nona anche al do questo è il tuo do la nona quindi se questa è la tonica vado su di un tono questa è la tonica questo diventa un do nona e poi aggiungo per esempio la nona anche al re ok e diventa subito interessante quindi do nona qua sto aggiungendo anche una nona undicesima sto aggiungendo anche un undicesima perché sto mettendo il sol e comincia a diventare interessante il nostro giro di partenza era sol mi minore do e re proprio da spiaggia l'aveva il frate ma già mettendo le estensioni e arpeggiando l'accordo quindi danno importanza a tutte le voci senti come si trasforma quindi al sol abbiamo aggiunto la nona sul secondo accordo mi vado a tenere in comune il canto quindi in questo caso il re vedi sul mi minore ho aggiunto la nona sul mi minore quindi fa diesima mi tengo in comune anche il re il re me lo tengo in comune anche sul do quindi do nona mentre sul re l'ultimo re il re nona slitto in avanti come facevamo prima dal dal mi sesta al re sesta sull'altro pezzo l'altra cosa interessante che abbiamo visto che ancora da sfruttare è quella di creare delle piccole melodie al canto per amalgamare meglio gli accordi se io parto dal sol nona prendo due note della tonalità di impianto due note della scala di sol quindi per esempio il re e il mi e crea una melodia tipo potrebbe essere una cosa la prima che mi viene in mente ok una cosa del genere la stessa melodia ma la vado a portare anche sul mi minore sul do nona potrei variarla un pochino e sul re anche e poi riparto dal sol ok direi che con questi due concetti principali quindi mantenere le note in comune nell'accordo successivo e creare delle piccole melodie al canto oltre alle estensioni puoi creare degli accompagnamenti veramente interessanti direi che per questo video è tutto se ti è piaciuto quello che hai visto lascia mi piace condividi il video iscriviti al canale ciao buona musica